Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale Torrette, mercogliano, Avellino. Per gli abitanti dei prefabbricati post terremoto di Via Mbimbo, il sogno di una nuova casa, anche per questo Natale, resta in cantiere. Sono trascorsi 38 anni da sisma. Se è vero che la speranza è l'ultima a morire, per si pasquale, superata la soglia degli 80 anni, toccare ferro è doveroso. Ogni mattina l'ex ambulante si ferma ad osservare i nuovi alloggi, uno sguardo verso un futuro che si è fermato a pochi metri dai fatiscenti prefabbricati di Via Mbimbo. I lavori, pare per una mancanza di fondi, vanno sempre più a rilento, lo stop, indirittura d'arrivo, va perché era l'ora, va al padre eterno. Lei da quanti anni abita qua in questo prefabbricato? Sono 40 anni, 39 anni, 40 anni, d'altro remoto. Insomma, a voi ogni tanto l'ha dato un'occhiata per vedere se queste case finiscono? Ma che devono finire, che devono finire, qui siamo ancora a zero, chissà, passeranno anni e anni e anni. Lei conta ancora di vederla, questa nuova casa? Ma che cosa? È impossibile. E vabbè, intanto qua come si vive? 81 anni. E vabbè, ce la fai pure con la tua forza. Qua dentro come si vive adesso? Beh, ringraziamo a Dic, io ringrazio a Dic, comunque fa freddo perché giustamente sono fabbricati pesanti, quindi il gas continua a corrente. Hanno fermato i lavori che non ci sono soldi, chi si ha mangiato i soldi? Ma voi sperate ancora, signor, di vederla a questa nuova casa? No, no, io non spero, io non spero sinceramente perché non la vedo. Eppure il cantiere sta qua vicino, sì. Eh, io qui, questo che vedete, i lavori me li ho fatti io, sotto c'era un rapillone. Il rapillone? Un rapillone, arena, quello doppio. Ho fatto tutto io, doppie parete. Da quanti anni state qua? Eh, ci dissero per dieci anni, trent'anni. Ci piove dentro? Sì, purtroppo da diversi anni piove nell'appartamento. Da quanti anni? Eh, saranno circa un due anni e mezzo, tre. L'ha segnalato al comune, però nessuno intervento. Sì, più volte hanno provveduto più o meno a fare qualche intervento, però in realtà non è risolutivo, perché ci hanno spiegato che è un po' tutto il soffitto che dovrebbe essere sostituito, cioè tutta la copertura. E purtroppo abbiamo ancora infiltrazioni e peggiorano anno dopo anno, perché peggiorano pure le piogge. E quindi ci... Passano più i secchi alle bacinelle? No, purtroppo no. Infatti mio fratello ha tutti i teli di plastica sul computer, sulla televisione, che mette e toglie quando piove o quando non piove, insomma, per utilizzare la stanza. Beh, io spero che fra una decina di anni qualcuno incominci a entrare in quelle case. Qualcuno. Tu ce la farai ovviamente, no? Io, boh, non lo so. Se il patritento me lo fa vedere. Mi sembri di bucicato, le case di Barbie. Non lo so, senza balcone. Cioè se uno vuole spandere una panna per asciugarla, dove lo spanno? Senza balcone, un po' di angolo cotturo, un solo bagno. Cioè la mattina se bisogna fare anche la fila per andare in bagno, chi c'ha tre o quattro.